Saccheria Franceschetti Saccheria Franceschetti è stata fondata da mio nonno Luigi quasi 80 anni fa. Da allora, per rimanere competitivi, abbiamo sempre dovuto scommettere sull'innovazione. Produciamo e distribuiamo sacchi di ogni tipologia, per il settore alimentare, per le spedizioni, per il settore edile e tanto altro. Quando siamo subentrati ai nostri genitori nella gestione dell'azienda alcuni anni fa, abbiamo deciso di puntare sull'intelligenza artificiale. Con la nostra startup EliVMS abbiamo sviluppato un'applicazione in cloud, basata su Google Kubernetes Engine, per l'automatizzazione del magazzino e della logistica. L'algoritmo cataloga i materiali in ingresso in modo ordinato ed efficiente. Quando arrivano gli ordini dai clienti, l'assistente vocale tramite auricolare guida i magazzinieri nel tragitto più veloce per trovare la merce e prepararla per la spedizione. Il sistema decide poi il prezzo da applicare ai compratori in base alla loro puntualità nel ritiro dei prodotti e gli invia la fattura. Tutto il processo viene controllato da tablet. L'efficientamento ha portato risultati molto concreti. Il fatturato è passato dai 16 milioni nel 2015 ai quasi 20 previsti per il 2019 e la marginalità è quasi raddoppiata. Si sono ridotte anche le contestazioni per ordini errati. Tutto è più semplice e veloce. Il tempo che risparmiamo lo investiamo su ciò che conta veramente. Fornire un servizio e dei prodotti migliori per i nostri clienti. Grazie. Grazie a tutti.